Perché tutto possa esistere. Non è solo un pay-off, ma è l'ambizione dell'edizione 2017 di espandere l'appuntamento annuale di Compagnia delle Opere dedicato agli imprenditori, manager, professionisti e collaboratori d'azienda. Un vero e proprio laboratorio di networking per elaborare nuove strade per lo sviluppo d'impresa. Il nostro territorio, ma credo un po' tutta l'Italia, tutto il paese, ha bisogno delle imprese. Quindi ha bisogno che le imprese esistano, che crescano, che si sviluppino. E oggi appunto con il lavoro di espandere lo vogliamo fare facendo un lavoro di confronto strutturato su alcune parole chiave che sono quelle della conoscenza, quella del connettere. Siamo nella rivoluzione digitale, quindi è importante capire come ci si connette. Quello dell'innovare naturalmente e soprattutto quello del decidere. Perché ogni impresa ogni giorno prende tante decisioni. E' importante che le prenda non sull'urto dell'emergenza, ma che le prenda invece con una visione d'insieme su dove vuole andare, su che cosa può fare per poter crescere. Conoscere, connettere, innovare e decidere sono le parole d'ordine dell'edizione di quest'anno. Sì, sono parole che rimandano a degli impegni e anche a un'attività che spesso viene teorizzata e non del tutto applicata. In fondo, gran parte delle nostre attività vengono ad essere orientate proprio a fare sì che le nostre aziende possano innovare che è un fattore di competizione molto elevato, che siano sicuramente in grado di connettersi in un contesto nel quale guardare all'export o guardare alle opportunità di business è molto più semplice se viene fatto in una rete, in una serie di attività che portano alla capacità di rinunciare un po' della propria sovranità sulla propria azienda, ecco, della propria attività di governo della propria azienda, in cambio però di una condivisione di quelli che devono essere e gli obiettivi e gli sforzi da porre in essere. Mi pare che questa iniziativa di stamattina sia un esempio intelligente di come un territorio si interroga sulle opportunità che arrivano, sulle criticità e guarda al futuro in questa logica sempre più partecipativa, in una logica nella quale l'esperienza dei singoli diventa l'occasione per poter guardare al futuro con ottimismo e dove effettivamente c'è questa realtà di una regione fragile da un punto di vista anche economico ma molto forte e sostenibile dal punto di vista delle prospettive che potrà avere in campi specifici come quello agroalimentare. È stata una bella giornata dove al centro c'è la persona, delle esperienze che vengono raccontate e dove il singolo lavoro viene ad essere portato a sistema quasi come forma di emulazione, di esempio da dover andare a copiare e dover andare a rappresentare quindi come un'opportunità di sviluppo per questa terra. Grazie.